Le condizioni di molte arterie a terre roveresche sono in progressivo peggioramento e esistono situazioni di frane e smottamenti che hanno distrutto pezzi di strade, situazioni irrisolte da anni. La frana lungo la Mondaviesa e all'altezza del campo da calcio di Barchi, che ha portato via parte della carreggiata, è lì da vent'anni, afferma il sindaco Sebastianelli, e proprio recentemente vi si è verificato un incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. Sempre a Barchi sono anni che bisogna fare i conti con il maxismottamento di fronte alla cantina Fiorini, che si è trascinato dietro un'intera corsia, tanto che le macchine devono procedere a senso unico alternato, un tratto pericolosissimo che mette a rischio la sicurezza. L'elenco dei dissesti è molto lungo, prosegue Sebastianelli, che conclude dicendo che la qualità delle infrastrutture viarie è determinante per la sicurezza dei cittadini e anche per la salvaguardia e lo sviluppo dei territori. Sindaco, ci racconti la situazione grave di questa strada? La situazione non è grave, forse peggio e tragica, anche perché siamo qua in un punto molto trafficato nel nostro territorio, lungo una strada provinciale, vicino anche alla cantina Fiorini, che comunque è un'attività molto nota, conosciuta in tutta la provincia di Pesaro Rubini e sicuramente anche oltre. E quindi ci troviamo qui di nuovo a combattere contro un caso anche di forse cattivo intervento, perché c'era una frana. Tempo fa la provincia che è intervenuta con un progetto probabilmente non corretto e la situazione è peggiorata, quindi si sta parlando di sicurezza, dei turisti che vengono da fuori, ma soprattutto di chi abita qui e di chi lavora tutti i giorni sul territorio. Il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha dichiarato che gli asfalti sono stati seguiti da lei, quindi ha deciso le varie zone di intervento. Che cosa risponde a Paolini? Ah, ma è semplice, questa è una cosa che come avviene dappertutto, alcune volte i tecnici della provincia chiedono dove bisogna intervenire, perché chiaramente il sindaco sta sul territorio. E allora nel 2022 c'è stato alcuni interventi che ha fatto, parliamo di forse 200-300, massimo 400 metri di asfalti che ha fatto su strade provinciali all'interno del territorio. Peggiorata e pericolosissima perché all'improvviso le due corsie diventano un'unica corsia da entrambi lati. Esatto, diventa un'unica corsia e proprio stamattina, probabilmente dopo articoli sul giornale, sono venite a fare la segnaletica, quella provvisoria dei cantieri, dei pericolo, ma questa non è che risolve il problema, perché non vorrei che anche qui facciamo come altre frane su questo territorio, all'inizio del paese, all'inizio di Barchi, dove 20 anni che abbiamo una frana e anche l'altro giorno c'è stato un ulteriore incidente. Adesso faremo una nota ufficiale, chiederemo anche ai consiglieri provinciali che sono appunto nel Consiglio provinciale, di sapere effettivamente da qui a 10 anni, 15 anni dietro, come sono state le risorse che la provincia ha speso, perché a me sembra che una parte di questo territorio, che chiaramente non coinvolge solo Terroveresche, ma altri comuni come Mondavio, come Santipolito, eccetera, forse rispetto ad altri territori di questa provincia è stata un po' tralasciata. E poi alla fine direi qualche volta, siccome Paolini si lamenta che le risorse, la provincia sono state tagliate dallo Stato, forse sarebbe meglio investirle in maniera più oculata, in maniera più ponderata e qualche volta potrebbe essere anche non necessario fare il giro di taglia. Mettersi a tavolino lei e Paolini per risolvere la situazione la vede possibile? Ma tutto si può fare, il problema è che però serve la volontà di intervenire.